Il MIS mi ha detto che mi faceva questa domanda, mi l'ha detto. Ma l'ha detto. Allora, rispondi direttamente. No, fammi la domanda, bisogna vedere se... Fammi la domanda. Cecchipaone ha fatto una statistica, adesso lo ricordo perfettamente, ma comunque ha contato un paio di gay... Scioffroci squadra. Non ho capito. Rifai la domanda. Secondo Cecchipaone ci sono due gay non dichiarati in squadra, due metrosexuali, cioè sono... Si parla in parole povere, metrosexuali, che... Piero, rispondiamo. E come rispondiamo adesso? Se penso a quello che dico, sai che cosa viene fuori? Problemi loro, sono froci, problemi loro. Ma la sbricco così, sennò mi attaccano da tutte le parti. Sono froci, se la vedessero loro. Mi auguro che non ci sono veramente in nazionale. Però, se l'ha detto Cecchipaone, che c'è stato? C'è stato? Io non lo so. Io nemmeno, non lo so. Dimmi te che mi hai fatto la domanda. Io ho letto quello che ha detto Cecchipaone, ma va benissimo la risposta tua. Ok.